luci datemi un microfono grazie tutto bene signori e signori qui a tilio scuderi vi parlo a nome di catanista ciò che segue dovrebbe essere la pubblicità del nostro prossimo programma azione ehi John Travolta, Uma Thurman ma che state facendo basta ballare ma perché c'è un campionato che sta iniziando e comincia il campionato non ci interessa c'è il catania in campo e se c'è il catania in campo torna catanista dai ragazzi allora scaldiamoci io mi metto in porta io prendo il pallone oh due contro due mentre loro giocano noi stiamo per partire perché su video regione torna catanista in tv per parlare del catania ogni lunedì a partire dalle ore 21 e 15 e poi anche il venerdì a partire dalle ore 22 insomma seguiteci sul canale 16 di video regione io nel frattempo con la mitica maglia rosso azzura vado a giocare anche con la mitica maglia rosso azzura io mi metto con la mitica maglia rosso azzura